Facciamo una partita da support e poi stacco. Non so se ce l'ho a Seraphine. Stavo pensando a qualcosa un po' di atipico, tipo Lamborghin support. No, Sion no, perché Sion vuole diventare grosso con gli HP e quindi deve farmare. Perché non si dicono queste cose brutte davanti a una ragazza. Sono una topina, mi scusi. Ti amo, ecco. Molto meglio. Hanno l'orogine adesso. Evelyn support. E qua cambia tutto. Ok. Bene, signori. Mi piace il cazzo. Anche a me. Dobbiamo interpretare il ruolo della topina, ragazzi. Dove siete? Non lo posso dire. Prima io. Perché ogni volta che gioco support succedono queste cose? Prima, dimmelo tu. Roma! Che culo! Ma serio? Anche... Ma che cazzo? Anch'io. Parca puttana, va. Che sfiga. Eur. Minchia. Ma questa è in provincia. Ma questa è in provincia. Quindi ho scritto una cosa giusta. Cos'è l'euro? Il cazzo scrivi Roma? Non lo so. Danderap, conosci le cose di Roma? Senza conoscerle però, Zesty. Di conoscere la Jekyll, è utile per trollare. Sì, zona B, Eur, Palace, Porto, Eur, Fer. Ah, ok. Bene, bene. Guarda, ho fatto fare la kill al mio D-Carry. Quanto sono forte! Ok, sono tornato in vita. Come te chiami? Martina. E sono diabolica. No, non lo scriviamo questo. Vai, ci sono! Night! Non muore. Mannaggia. Allora c'è anche il corso che ha caduto la... Ah, guarda che altre cose che scopro. Scrivendo tre lettere una di fianco all'altra, ho scoperto un posto della zona di Roma. Mamma mia, ragazzi. Continuo senza pagina. Ma è evidente che circostante diventa invisibile a livello 6. Ah, ok. Perché un romano direbbe una cosa del genere, è uno di provincia, capito, capito. Sono un produttore, potrei fare una specie di siglo intermezzo per le live? Certo, Tripper Beats. Noi ne parliamo. Cioè, come ho visto, io... Facciamo delle musiche per i campioni. Non so se hai visto, ho sentito la Timo Song, quelle cose lì. Finalmente finito di spellere il bambino marrone. Sono passato... Buonanotte, ciao Franco. Io non ho visto che vivo vicino a Roma, potresti presentarmi la topina. Purtroppo qui è da un po' che non si batte chiodo. Eh, vabbè, we run the war. Bisogna uscire di casa invece di giocare a LOL. Dai, un giorno mi trasferisco a Roma, ragazzi. Così usciamo tutti insieme. Chi di voi è di Roma? Un nemico è stato ucciso. Sennò Milano. Adesso farò un sondaggio della community. Se ci sono più persone a Milano, vado a Milano. Se ci sono più persone di Roma, vado a Roma. Devo scegliere una di queste due città. Sennò sta Bologna che è nel mezzo. Raga, raga, hanno Jean Jungle. Raga, ma hanno copiato. Hanno appena visto Jean Jungle e hanno piccato loro. Non so se avete notato. E non l'avevo visto, Jesse. Ho visto che tu hai detto copiarli, ma non pensavo che perché ti riferissi al level in support che ti copiavi. Cioè, chissà quanto ci ha messo per startare il game questo Jean. Sto arrivando, sta arrivando. Mi penserà questo... Beh, quanti jungler ci sono in questa partita. Ho messo un po' per prendere questa insalata. Buono, buono. Ho usato l'assist. Questo Jean Jungle... 0-4. Mica come il mio. C'è una Jungle Diff dal game di prima. Ok. 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 Buono, buono, buono. 5-0 Yasua. Ok. Cosa sta succedendo in chat, ragazzi? Non ho capito. Perché vi state adirando? Non c'è uffa. No, Jessie, ma guarda che io l'avevo letto. Sono felice che tu te ne fossi accorti. Infatti ricordavo... Ecco a cosa si riferiva Jessie. Me l'ho capito dopo. Allora, vai. Ora, vedete, siamo a livello 6, quindi adesso sono permanentemente invisibile. Quindi sono un support fortissimo. Ok, ne ho botte. Dai, 0-0-3. E' fatto real life. Leggi cosa ha scritto, Giorgio, e lo capirai. Capito, Jessie, sei stata bravissima. Pronti? Eccoci qua, mi ha scoperto. Ok. Mamma mia, ragazzi. Il support che tutti vorrebbero. E facciamo il drago. Cugino, tornerò dopo il banno. Non c'è aiuto col drago. E allora niente. Quanto ce lo dovrebbe fare? Mi stacco notte, ciao a te, cugino. Ciao, Warframe. Buonanotte. Oh, cazzo. Ok, vabbè. Flash per flash. No! Cosa fa Tristana? È impazzita. Perché è saltato così male? No, non fa niente quello. Non fa niente. Se l'ammazzi, Tristana. È 0-4. I'm sorry, Jean. But I didn't use that build. Questo Jean l'ha fatto con Dark Harvest e Life Steal. C'è, che cazzo sta facendo? Il tanga? Tanga? In mezzo alle capee. Quiet, grazie del follow, ben arrivato. Sta facendo l'eclipse. Ma che cazzo sta facendo? Non è certo Lamborghini, allora. 15 secondi, ragazzi. Ok, ok. Andata back. Molto bene, molto bene. Anni tutte e due? Perché? Avevo una sola qui. E tu sei già tuttato. Ciao! Ciao, cocchia de nocchia. Grazie mille del terzo mese. Bentornato. Fai clip, sei un po' nub. Vai, vai, Tristana. Mamma mia. Stable in support. Vengono tutti su di me. Molto bene, molto bene. Stanno lì a shottati per bene. Yasuo mi sembra un po' troppo bro. Sto giocando? Ok. E Yasuo, boh, non lo so. Magari sta smarfa. Murphy? Vediamo. Ho fatto il terzo mese. Occhio nuro e il cuore non vi ha avuto. E' un'evoluzione. Un evocatore si è riconosso. Un nemico è stato ucciso. Molto bene, molto bene. Molto bene, cazzo. E ce li siamo uccisi tutti e tre. E vabbè, sto lato back. GG. Jungle? Scusate, Dio. E niente, ragazzi. Fanno così. Sono un po' strani. Io... Anni 19. Voi? Parlava di Nasus. 18. Ho diventato jungler. Vabbè, è stato subituato a fare la giungla quando... 18-19. Molto bene. Ok. Questa vuole. Amica Voglio farmi spottare Troppa gente qui Andiamo da Weiger Vieni vieni Andiamo Wukong Vai tu E' stato ucciso Perfetto 21 a 3 ragazzi Si Yasuo sta smarfare Va bene In quelle world si vede no Soltanto quelle world le pink Cioè quelle Le control world Perché paghi 75 gold Report on jungle please Avete visto la differenza Tra un gin e l'altro Va bene Va bene Lui è troppo tankoso per noi Ottimo Hanno ucciso Yasuo Ho la ulti però tra poco Vediamo se passano da qualche parte Sono tutti mid Non so se Non so se Paccato Dopo mi hanno stunato un po' troppo Che sfiga però È vingato il flash Quindi immagino che avesse visto l'azione Contro sono come i night club Devi pagare se vuoi vedere Che cosa le contro Ah le contro Ok Ma allora la ragazza sa giocare Si sono il best support Ecco qua Martina sa giocare ragazzi La mia squadra Lascia di La mia squadra Sì La mia squadra È fullo E torniamo Lo so Sei anche Cosa vuol dire Questa parola Cosa vuol dire Figa Ma che ne sa lui Che ne sai tu Io so tutto Beh ragione comunque Sono Sono sorca Quindi Direi anche Troppo femmina Di grandi dimensioni Infatti sono una topina Quindi di grandi dimensioni Ma sono di piccole dimensioni Sono una topina Ma che cazzo succede qua No tu Si fai così Poverina Quella se ne va Wow Che me ne fott No Non mi infastidisco Di solito Ok Ma la muta Yosuke Mi fa male agli occhi Cosa gli diciamo ragazzi A questi qua Come gli rispondiamo Come risponderebbe Una Chad Una Chad A girl Ma adesso Mica Mica l'ho insultata Appunto Trivi che è E fai colpo Ti metti a testa in giù Ti capisco meglio Potrebbe essere una buona punchline Secondo me Ragazzi poverini Sono veramente carini Questi Ho ragione vero Evelyn Hai ragione Caro Poi vediamo Tu come sei Mi piace Mi piace Adesso sono io Che devo dare il giudizio Spostiamo l'attenzione Cosa Zesty Di solito Non la do al primo match Esatto Va bene Possiamo scriverla Chi lo sa Di solito Non la do al primo match Mi piace questa frase Oddio Facciamo pentakir Peccato L'hanno rubata una Un nemico è stato ucciso Ma Doppia uccisione Doppia uccisione Arrivata Evelyn Molto bello Indice 2 La nostra Evelyn support Sono tornata adesso Sta di nuovo su League of Tinder Sì Ogni volta che gioco support È così GG Tempo di tornare Ogni volta che gioco support Siamo su Pimba Vabbè Da cugino rap A cugino trap È un attimo Ottimi questi support Sì Che onoriamo? Tristana dai 40 a 8 Eh sì Direi ai ragazzi Che abbiamo fatto Un ottimo lavoro Draft No Ora vado a dormire Sono troppo stanca Sto giocando a lol Da 8 ore di fila Da 8 ore di fila Adesso gli mandiamo il link della live Non fai un cazzo bello Domani si torna No vabbè Vai vai manda Ma se glielo mando ragazzi Eh loro lo vedono prima dal link Che c'è scritto Cugino rap Quindi dovrei fare Un link apposta No se io entro in vocal Questo bestemmia Tira robe Ragazzi Che non si può fare Ciao topi Poi finisce la magia della topina Anche se Se gliela passa Esatto Non posso Ciao topi Ciao Dimmi Dimmi Lasciamolo sognare Che mi dici Che cazzo ti dico Ho visto una Allora Domani esce Il signore degli anelli La serie su Amazon Devo vederla tutta Dai Famo se un game Catfishing su lol Non ho parole Ragazzi Cioè si può fare Avete visto Ah sì Esatto Famo se un game No Io sono Addormentata Quasi Perché Gioco Da 8 ore Di fila Ora vorrei Andare Nel vettino UV Minchia Senza di me Subito a provarci Per ora sì Ancora Non ti conosco Ma poi Di dove sei? Ragazzi Ci provano subito Ragazzi Mamma mia Che dignità In provincia di Roma Sì sì So dov'è Io andavo A Fosinone Ho capito Dai Magari Una volta Che passi A Roma Ci facciamo Un Drink Sto invitando io Capito? Cioè dovrebbe essere lui A invitarmi Ciao Basta che paghi tu Non lavori? Cioè vuole che Pure che lo pago Vito Che cazzo Ti ruoli? No no Devo andare in quinta Io pure L'ho fatta Quest'anno Io 2003 Quindi Non ho soldi Vabbè Prendiamo Dell'acqua E poi Di solito Offrono Dovrebbero offrire I maschi No però Non è vera sta cosa Ormai non è più così da Le scuole hai fatto Porca puttana ragazzi Scuole di Roma Scuole di Roma Liceo di Roma Liceo di Roma Dai 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 Uno Non troppo Da elite Ma nemmeno una merda Forza Qual è? Qual è? Ma io sono una ragazza Che la ruote ne tanto Newton Giuseppe Carducci Scientifico Sì ma quale nome? Vabbè Camillo Cavour Grazie Io sto allo scientifico Ah io ho pure fatto scientifico Però non sono molto credibile Sto parlando troppo Per essere una ragazza Non dovrei scrivere Non dovrei scrivere Però lui non scrive Non ci sa fare ragazzi Non ci sa fare Il colle ferro Ma lui è in ferro infatti In quanto sei uscita? 69 Non voglio dirlo Poi mi prendi in giro Prima suspense Dai su Prometti che non fai battute? 69 Esatto Ho detto lui L'avevo intuito L'avevo intuito Sei molto perspicace Dai l'importante è essere usciti Dai l'importante è essere usciti Non è così cosa Marco Gino? Sì sì L'importante è venire No Allora l'importante è uscirne in qualche modo Tipo ora non so come andarmene da questa chat Per adesso Per adesso ti saluto Anche io su Vai a fare Un game Anche per me Dedicami una vittoria No rimorchi L'abbiamo già rimorchiato Cioè se vogliamo è nostro Grazie A domani Notte notte Conquistato Abbiamo fatto strage di cuori Anche oggi su League of Legends ragazzi L'acera Fustica E massacra L'acera Fustica